Alle prime luci dell'alba i carabinieri del gruppo di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad una misura cautelare reale di sequestro preventivo emessa dal GIP del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale procura della Repubblica, nei confronti di dieci indagati ritenuti responsabili a vario titolo di truffa aggravata per l'indebito conseguimento dell'erogazione pubblica denominata reddito di cittadinanza. Contestualmente i militari hanno effettuato altrettante perquisizioni personali e locali. I soggetti, in assenza di alcuni requisiti necessari per ottenere l'emonumento, avrebbero percepito indebitamente la somma complessiva di circa 60.700 euro nel periodo compreso tra i mesi di maggio 2019 e marzo 2021.